Signori e signori, l'ultimo ospite è Erick! Buonasera, benomeni! Sono Erick e sono un ufficio di Bacchi Super. Ho visto che Bacchi Super ha 7000 iscritti con ragazzoni. Però ho la parodia di La Yo Yo, Transline Yo Yo. Però, però, Dylan mi ha detto che c'è il KCSFX. La sua comunità ci ha scritto, grazie Dylan! Hai usato il mio audio senza sound ideas, applausi dei bambini. I breve KCSFX. Ciò significa che userò il tuo audio per davvero. Sto piangendo di gioia. Queste gode del violino sembrano mascia e osso. Ora, Erick, Emerald e Clarice potete usare. Buon diventimento!